La coppia è stata trovata dai carabinieri nei pressi del parco a bordo di una Fiat Punto in possesso di 530 grammi di hashish e 20 grammi di marijuana. Dopo un'ulteriore perquisizione presso la loro abitazione, i militari hanno trovato ancora un chilogrammo di hashish. La coppia è stata collocata agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Grazie.